Per fortuna siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno, macro advisor e professore London School of Economics. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, piacere averla con noi. Intanto abbiamo parlato proprio con lei qualche mese fa, forse qualche settimana fa, per quanto riguarda appunto il ritmo di acquisti nell'ambito del PEP, naturalmente della BCE. Oggi Christine Lagarde si è rivolta proprio a questi ICB Watchers che naturalmente hanno fatto notare sui social media, Twitter in particolare, il fatto che il ritmo non è per niente accelerato, almeno escludo l'ultima settimana. Lagarde ha detto oggi che bisogna guardare, bisogna considerare un arco temporale un po' più lungo e cioè forse a livello mensile più che a livello settimanale. Lei che cosa ne pensa di questa affermazione? Certamente ha dato un'indicazione chiara, ha detto chiaramente che non bisogna guardare i dati settimanali, bensì quelli mensili, poiché la decisione di marzo è avvenuta a metà mese. È chiaro che il mese di marzo conta per metà, mentre il mese di aprile è solo a metà strada, quindi diciamo ancora presto per fare una valutazione. Quindi lei ha confermato in pieno il linguaggio usato in marzo, ovvero sia che ci sarà un sostanzioso aumento del ritmo degli acquisti del piano PEP. Questo quindi verrà visto a fine trimestre, si farà il punto in giugno e penso che, visto che l'ha commentato e detto con molta chiarezza, penso che questo si verificherà. Quindi nei prossimi settimane dovremo attenderci un aumento nel ritmo degli acquisti di titoli netti da parte della Banca Centrale Europea. Ecco, sicuramente questo è uno dei punti piuttosto importanti. Un altro punto è che ovviamente le hanno chiesto che cosa succede, se ci sarà un ritardo per quanto riguarda il Recovery Fund, di cui ne parleremo tra pochissimo perché sono usciti i numeri, almeno per quanto concerne la proposta italiana, il piano italiano, scusate. Quindi le volevo chiedere, sotto questo punto di vista ci sono preoccupazioni da parte sua per un possibile ritardo? No, direi di no. È stato detto chiaramente che verrà presentato entro il termine di fine mese. Forse c'è qualche piccolo ritardo in qualche altro paese, però nel complesso penso che l'Unione Europea avrà i suoi piani pronti per fine mese o la maggior parte di questi piani. Quindi non penso ci saranno ritardi significativi. Teniamo presente che all'interno dei piani è possibile finanziare progetti che sono già partiti l'anno scorso, quindi non è detto che un leggero ritardo effettivamente porti ad un ritardo nell'implementazione stessa dei piani di investimento. Questo non è assolutamente detto. Un altro punto è l'inflazione. Dove vede l'inflazione naturalmente nel medio e lungo termine considerando il recovery plan di cui appunto lei ha appena detto che non si preoccupa per possibili ritardi, il che vuol dire comunque un'iniezione di liquidità piuttosto significativa all'interno dell'Eurozona? Certo, il recovery plan, questi grandi piani di investimento che toccheranno un po' tutti, ma soprattutto i paesi che beneficeranno di questi fondi europei, ovvero l'Italia e la Spagna, avranno una qualche implicazione anche sull'inflazione, ma sarà abbastanza specifica e devo dire che probabilmente la Banca Centrale Europea se guarderà queste tensioni specifiche tenderà a guardare oltre, cioè a guardare la fase successiva. L'ha detto oggi la Presidente Lagarde, alla fine è quello che veramente conta nel medio e lungo periodo ed è il motivo per cui la Banca Centrale non ha cambiato in sostanza l'outlook economico e quello sull'inflazione e che per vedere una ripresa significativa all'inflazione bisogna vedere una chiusura dell'outlook gap nell'economia e vedere una ripresa salariale, cosa che ovviamente in questo momento non è in vista. Direi che l'altro messaggio molto importante che lei ha appena citato è che non c'è stata nessuna discussione sul cosiddetto tapering degli acquisti, ovvero sia ancora molto prematura questa discussione e come ha detto la Lagarde dipenderà soprattutto dai dati che usciranno in futuro. Quindi non c'è ancora nessun commitment, nessun impegno preciso da parte della BCE a porre termine a questa politica ultra accomodante che la Banca Centrale ha in questo momento. Assolutamente sì, guardi abbiamo parlato proprio con lei per le parole di Not, invece lui però era convinto che è probabile un possibile tapering verso la fine dell'anno, verso la fine del 2021, ovvero l'ultimo trimestre dell'anno, quindi io le volevo chiedere come interpreta queste opinioni diverse all'interno del board della BCE perché poi per carità Lagarde è molto brava ad assemblare tutti i pezzi, Draghi era un po' di più forse decision maker, ovvero un tecnocrat. Sì beh, non c'è dubbio che ci sia una discussione strisciante diciamo così all'interno del governing council, ed è chiaro che anche l'uscita dalla crisi non sarà pienamente omogenea, ci saranno paesi che usciranno prima, altri che usciranno dopo, l'intensità della ripresa sarà diversa e quindi questo porta anche a governatori di banche centrali europee a esprimersi in maniera diversa. Detto questo è chiaro che sta al governing council della BCE trovare la sintesi e mi sembra di poter dire che in questo momento la sintesi è ancora molto prematura perché l'ha spiegato molto bene la Lagarde, non ci sono differenze significative dal quadro economico rispetto a marzo, oserei dire anche prima, quindi diciamo ancora molto prematuro questa discussione sull'uscita da queste politiche. L'altro aspetto devo dire interessante è che se vogliamo essere proprio pignoli e guardare il dettaglio, forse da marzo un piccolo modifico c'è stato perché c'è stato un ulteriore irrigidimento nelle condizioni finanziarie e di finanziamento per le imprese legate alla struttura dei tassi di interesse e abbiamo visto la bank lending survey della banca centrale europea mostrare un leggero irrigidimento delle condizioni di credito, però la Lagarde ha sminuito questi fattori, ha detto che sostanzialmente le condizioni sono invariate quindi c'è chiaramente una volontà di lanciare un messaggio di stabilità per quanto riguarda i tassi ma non solo i tassi, non solo gli acquisti di titoli ma in generale la politica, quindi tutti i messaggi la forward guidance, gli acquisti, la politica monetaria nel suo complesso è sostanzialmente invariata. Io non mi aspetterai grandi modifiche neppure nella seconda parte dell'anno se devo essere sincero, penso che l'uscita da questa situazione sarà molto graduale. Assolutamente sì, intanto volevo spendere qualche parola anche per quanto concerne la bozza del recovery fund e oggi è la riunione appunto a Palazzo Chigi del Premier Draghi e del Ministro dell'Economia Daniele Franco con i capi delegazione e i ministri coinvolti sul dossier recovery. Naturalmente il piano nazionale di ripresa e resilienza ammonta complessivamente a 221,5 miliardi di cui 191,5 miliardi riferibili al recovery, fanno dei 30 miliardi di fondo complementare. Qual è il suo parere di questa nuova bozza? I numeri, bisogna dire, sono 6 le emissioni come erano già nel precedente PNR, poi questo naturalmente è rivisto dal governo Draghi, dal nuovo ministro anche dell'economia e non solo, abbiamo 42,5 miliardi per competitività e cultura, poi abbiamo anche rivoluzione verde e transizione ecologica con 57 miliardi. Come vede i numeri e un piano dignitoso per rappresentare naturalmente alla Commissione UE? Ma io penso che anche il piano del precedente governo comunque aveva un'impostazione corretta, è stato ulteriormente migliorato, soprattutto sono stati inseriti i dettagli sugli investimenti che prima mancavano. Vedremo se ci saranno anche i dettagli sulle riforme, perché quelle saranno veramente il punto di svolta. Se ci saranno riforme sufficientemente dettagliate, questo vorrà dire che il governo ha la sicurezza, ha la certezza di avere sia il supporto politico, sia il supporto delle parti sociali su queste riforme. E sarebbe una notizia molto importante. Ho il sospetto, anzi penso che sarà molto probabile, che invece queste riforme saranno solo accennate, solo tracciate. Ci vorrà ancora molto lavoro prima di arrivare a dei dettagli. Questa è la grande sfida. Penso che per far sì che il piano di investimenti sia veramente efficace saranno necessarie riforme significative e importanti. Draghi, su questo è una sicurezza, bisognerà vedere se il Paese lo segue. Sì, questo è un punto importante, poi ci tenevo a ribadire per i nostri telespedatori, perché oggi è la giornata della terra, una giornata importante, e per quanto concerne rivoluzione verde e transizione ecologica, sono messi da parte, anzi sono previsti 57 miliardi di euro, quindi una somma particolarmente importante. Intanto le chiedo un commento sul Consumer Confidence, il dato flash dell'Eurozona ha meno 8,1% rispetto ai 10,8% per quanto concerne il dato precedente. Come giudica il dato? Bisogna andare con cautela, perché qui stiamo uscendo da una situazione molto critica. È chiaro che la fiducia tende ad aumentare, ma non ancora a tal punto da mostrare una ripresa forte dei consumi, e soprattutto al pari di quanto probabilmente avverrà nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L'Europa è un po' in ritardo, è in ritardo nelle vaccinazioni, è in ritardo nelle chiusure, quindi riaperture dell'economia, e sarà in ritardo anche in termini di fiducia e poi in termini di attività economiche. L'importante è che questo ritardo sia contenuto in poche settimane e che la ripresa sia sufficientemente forte in futuro. Per il momento devo dire che ho la sensazione che l'Eurozona e l'Unione Europea sarà probabilmente un po' in ritardo rispetto ad altre aree. Ancora un'altra volta, comunque anche se non vogliamo, Covid fa parte del nostro discorso, ma soprattutto la campagna vaccinale che sta migliorando però, almeno per il momento. Io la ringrazio, grazie mille, Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e certamente professore all'LSI. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, saluti.